Il Ministero ha deciso di tagliare in Abruzzo per il prossimo anno scolastico 69 insegnanti, 18 in provincia di Teramo. Un problema del quale avete parlato stamattina nel corso di una riunione che si è svolta a Liti alla presenza dei sindacati. Sì, noi questa mattina anche sollecitate da dirigenti e da politici, i sindacati, almeno quelli maggiormente rappresentativi, cioè a dire CGL, CISL, Will, SNALS, unitariamente hanno invitato dirigenti scolastici e politici dai più alti ai meno alti in carica perché la situazione scolastica è decisamente grave contro un decreto che determinava la invarianza di organico e quando parliamo di organico parliamo di numeri di docenti. Infatti voi eravate tranquilli sulla base di questa circolare? Certamente. Ci siamo ritrovati con 18 in meno a Teramo e il decreto parlava di invarianza. Non solo, ma addirittura si era chiesto da parte nostra una deroga perché tutti sanno, e l'avete anche ben rappresentato voi come organi di stampa, che gli edifici scolastici sono in seri problemi un po' dovunque anche in provincia di Teramo. E la messa a norma non sarà immediata. La messa a norma è al di là da venire, ma il problema è ancora che c'è una situazione per esempio di classi molto numerose con la presenza di handicap e l'handicap è una cosa seria, non è una cosa sulla quale scherzare. Dunque questi tagli, se verranno applicati, avranno delle ripercussioni serie soprattutto sugli studenti? Certo, è certo. A me fa molto rabbia, io credo di avere qualche anno di esperienza come insegnante, anche come sindacalista. Quello che fa rabbia è che nessuno parla dei ragazzi. Tutto questo ricade negativamente sui ragazzi. Se c'è, scusate il termine, un piattume è perché da altri si vuole che sia così. E questo è gravissimo. E se non c'è qualcuno che dà fiato alla propria voce per dire che la scuola è una priorità, ma quando si parla di scuola a priorità si parla di ragazzo che ha un diritto non costituzionale, naturale ad essere educato. E ad essere educato nel migliore dei modi, se vogliamo una società civile a misura di persona, in un contesto democratico che sia tale.